Benvenuti amici di Lombardia Notizia Online al nostro nuovo approfondimento sulla pagina Facebook che ormai in tanti apprezzano, conoscono e alla quale mettono like. Il tema di oggi è quello dei giovani e in particolare l'iniziativa Young is Future ospitata a Palazzo Pirelli. Io vorrei sapere di più, questo manifesto in che cosa consiste? Noi raccoglieremo direttamente dai giovani con i giovani quelle che sono le idee e i progetti perché sono i giovani i protagonisti, non possiamo fare qualcosa per loro senza coinvolgerli e quindi l'iniziativa di oggi che in realtà è il termine di una lunga serie di incontri che abbiamo fatto e che continueremo a fare sul territorio, devono essere i giovani al chiamare questo manifesto che poi li renda protagonisti del presente e soprattutto del futuro. Secondo me è importante che si possa trasmettere ai giovani il fatto che siano loro a dover prendere in mano il loro futuro e non aspettare che sia qualcun altro a farlo. Ricordiamoci che Leopardi ha scritto l'infinito a 21 anni, era giovane però è un'età in cui oggi riteniamo che siano ancora dei bambini, che siano ancora da essere guidati mentre invece bisogna prendere in mano il proprio futuro. Secondo me ai giovani bisogna trasmettere il concetto che bisogna trasformare tutto in un'opportunità. anche un evento particolarmente negativo come può essere la pandemia, il covid, la perdita del lavoro bisogna sfruttare un'occasione come la pandemia per potersi formare in qualcosa di nuovo poter acquisire nuove competenze, poter capire che il mondo sta andando in una nuova direzione cercare di anticiparlo e crearsi da soli una nuova opportunità. Le proposte che da chi lavora dentro al mondo della scuola per i giovani quali possono essere? Allora sicuramente le parità e quindi l'uguaglianza e un'equità nella partenza quindi pari opportunità per tutti i giovani. Ovviamente così com'è una pari opportunità ovviamente il giovane come si discuteva proprio adesso al tavolo gli devono essere offerti tutti gli strumenti opportuni per mettere in pratica questa parità di inizio questa uguaglianza di inizio. Quindi con docenti formati, con docenti preparati non lasciati al caso, non lasciati così a se stessi i ragazzi per permettergli di capire cosa vogliono fare dopo, quale sarà il loro futuro. È un'iniziativa davvero molto interessante che dovrebbero replicare un po' tutte le regioni provare a creare delle progettualità che riguardino i ragazzi ma farle partire proprio da loro quindi coinvolgerli sui territori non solo in termini di associazioni ma proprio tutti i ragazzi che vogliono partecipare, costruire insieme le progettualità per diventare parte di, in questo caso di una legge regionale ma di programmi a loro destinati, penso che sia un vero punto di svolta anche in termini di metodo per cui è un'iniziativa davvero bella e apprezzabile. Alessia, tu ti occupi di? Allora io sono un'analista dei mercati energetici quindi mi occupo di valutare in quali paesi e in che modo supportare una maggiore penetrazione di energie rinnovabili. In termini di propositività si potrebbe fare un passo in più e farlo più rapidamente sia a livello Lombardia sia a livello Italia c'è bisogno di azioni rapide, c'è bisogno di comunicare maggiormente quelle che sono le possibilità per raggiungere i target, c'è bisogno di snellire anche il processo autorizzativo per supportare le rinnovabili in modo da raggiungere un progetto di decarbonizzazione nel minor tempo possibile. Sicuramente quello che a me mi interessava portare come operatore culturale, quindi come artista, come lavoratore del mondo dell'arte è sicuramente un link con le istituzioni in qualche modo un po' più diretto, un po' più trasparente e dal punto di vista della formazione in campo artistico anche un'idea di una formazione differente, una formazione dilatata che non finisca semplicemente con la fine di un percorso accademico ma che possa continuare, riceva la possibilità di continuare nel tempo anche dopo il diploma di accademia o la laurea in altre discipline che abbiano a che fare con l'arte. Grazie per averci seguito, è stato un viaggio lungo e interessante, abbiamo anche avuto modo di individuare quali sono i temi, le suggestioni e soprattutto le richieste da parte del mondo dei giovani in vista della nuova legge regionale. Un successo per Generazione Lombardia suggerrato suggerrato anche dalla presenza del Ministro per le politiche giovanili Fabiano Dadone. Grazie per averci seguito, alla prossima.